Noi stiamo per iniziare ma potete farlo insieme a noi al 331-7853-555 Questo è il nostro numero di Whatsapp, pronto anch'esso qui davanti per essere inondato dai vostri messaggi Tante appunto come sempre durante la mattinata, vi chiedo scusa se a volte non riesco a leggerli tutti Però poi arrivano gli ospiti, poi cominciamo a cacchierare, poi posso dire la verità, mi distraggo C'è anche questo problema, mi distraggo, me li passano e quindi a volte me li perdo Quindi appena arrivato un bel buongiorno da uno scudetto interista Sì, che non so, sono contento, si è ripreso evidentemente dal derby Ho avuto adesso un bel Whatsapp al 331-7853-555 con scritto buongiorno Con uno scudetto dell'Inter, credo, sì dell'Inter, infatti quindi va bene Credo che si sia finalmente anche l'interista ripreso dal derby Firmateli Whatsapp, così almeno so chi siete perché sul computer della radio non ho i nomi Non vengono fuori sui numeri, quindi non so chi siete Firmateli che sono ben contento, buongiorno comunque anche all'interista E dai, speriamo che la settimana vada meglio di come è andato il weekend Sempre qui quindi, partiamo con un po' di musica e poi torniamo con le notizie Good Morning Milano, Crystal Radio, 96.2 FM, Dark Plus, l'applicazione Braio S Android E anche ovviamente sul web, ci trovate quando e come volete David Bowie, Rebel Rebel, 7 e 18 minuti qui su Crystal Radio, Good Morning Milano Grazie dei Whatsapp che stanno arrivando, subito appena apriamo sono lì pronti a scriverci Grazie ad Alberto che ci dice buongiorno Fabio, buongiorno alle ragazze in redazione, agli ascoltatori Ma è possibile che adesso tutte le volte che piove si ferma qualsiasi cosa? Anche il calcio, e sì perché guardavamo le notizie infatti ieri hanno dovuto fermare Atalanta Como Che prima l'hanno slittata di un'ora e poi invece è rinviata oggi alle 20.45 Alberto aggiunge, per fortuna voi di Good Morning Milano non vi fermate mai È vero, sì, non vedete le mie mani in questo momento sotto il tavolo Perché sto facendo tutti gli scongiuri possibili Però effettivamente, nonostante, beh, confessiamo, nonostante qualche goccia che quando piove forte Entra dal lucernaio che abbiamo in fondo alla redazione, che devo dire Che però entra sulla schivania, proprio precisamente sulla schivania di Elena Inversetti finisce Quindi a noi poco interessa, facciamo abbastanza così, un po' cattivelli con lei, no scherzo Però ecco, a parte quello devo dire che insomma tutto tiene bene Quindi sì, si cerca di andare avanti sempre e comunque, quindi ci proviamo Prima notizia che voglio darvi è, finalmente c'è una data Eh sì, non, non mi guardare, Beatrice così, non del mio matrimonio, della mia bar mitzvah O del mio battesimo, no, ma dell'inaugurazione della M4 12 ottobre 12 ottobre si inaugura la M4 Tutta quanta, è tutta, tutta, tutta Da San Cristoforo fino all'inate Con tutte le firmate in mezzo di cui ancora ignoro la maggior parte dei nomi So che forse c'è un Bolivar, forse da qualche parte C'è un, forse c'è Washington, non lo so Ignora veramente abbastanza tutti i nomi Eh, tranne San Babila e un paio d'altri Eh, sta arrivato che il 12, adesso poi man mano Nei prossimi giorni arriveranno le notizie sugli orari e tutto Comunque la mattina sicuramente del 12 Ci saranno le, i viaggi inaugurali Eh, se tutto è come le altre volte Dovrebbe essere completamente gratuita quel giorno Di solito funziona così, perché il giorno dell'inaugurazione O meno l'M5 era così Eh, poi infatti si va il giorno dopo A prendere il biglietto inaugurale Quelle cose lì Comunque, beh, sta di fatto che Eh, finalmente, finalmente Milano Avrà tutte e cinque Le linee della metropolitana funzionanti Non come Fino a qualche anno fa Quando vino a Milano C'era la 1, la 2, la 3 e la 5 Mancava la 4 No? E quindi c'erano finita la 4 E adesso ovviamente manca la 4 Quindi Tutte e cinque le linee Una Impresa titanica Guardate, la costruzione dell'M4 Sappiamo Soprattutto nel centro storico Intorno a Sant'Ambrogio Cosa non hanno trovato lì sotto Eh, ma ce l'hanno fatta Quindi complimenti Agli ingegneri Di M4 E a tutti quelli che hanno costruito L'M4 Eh, devo dire L'ho usata un paio di volte Giusto così Perché Fino adesso era completamente fuori Dalle miei Radar E dai miei passaggi Ma l'ho usata un paio di volte Devo dire Molto utile Tra parentesi Ho notato che I trenini I vagoni Sono gli stessi identici Della M5 Ma hanno le seggioline Girate in maniera diversa Mi sono chiesto Perché Non ho ancora la risposta ufficiale Ma mi sono dato la risposta da solo Molto probabilmente Perché andando a Linate Ha più spazio Anche per le valigie Cioè se tu carichi sui bagagli È più spazio Tra parentesi Mi chiederei Perché non facciamo questa cosa Anche sulla 5 Così quando va a San Siro Ci sta più gente su E non Tutta gente che ti Cammina in testa Così Cioè sarà più comodo Comunque Tutto funzionante Super tecnologica Super All'avanguardia Tant'è che ce la invidiano In tutto il mondo Tra parentesi Non so se avete visto La serie The Beer A un certo punto La serie The Beer Ha delle scene A Copenhagen E se guardate Sembrano girate Nella nostra M4 Perché i treni Sono gli stessi identici Perché sono quelli di ATM Infatti ATM gestisce La metropolitana Anche di Copenhagen Quindi piccola nota Perché fa capire Come quando facciamo le cose bene Ne possiamo fare E andare in tutto il mondo Smooth Operator Ricordo sempre Questa qui È una delle canzoni preferite Da Carlos Sainz Mi piace sempre ricordare Questa cosa Che se la fa mettere in radio Durante le prove Libere Durante le qualificazioni Durante la fine dei Gran Premi Insomma C'è questa cosa qui Comunque Allora Io devo dire che Insomma Ognuno ha il pubblico Che si merita Forse Perché evidentemente Io in realtà Non vi merito Così bravi come siete Perché davvero Parlavamo delle fermate Della M4 E tutto E giustamente Mi arriva un Whatsapp Con tanto di foto Di tutte le fermate Della M4 E con Anche I nomi corretti Perché sono cambiati Infatti mi ricordavo Che c'era una fermata Washington Che invece Ha cambiata Perché quella Washington Credo che sia diventata Bolivar E invece Con Izzugna Ha preso il posto Di Solari Si doveva chiamare Solari Ok Saranno contenti Quelli di Solari Che sono fatti un mazzo Per prendere tutti i lavori E tutto Comunque i nomi Allora a sto punto Vi do l'elenco Delle fermate M4 Che sono appunto Come diciamo Partiamo da Sud Quindi partiamo da San Cristoforo Poi passiamo a Segneri Gelsomini Frattini Tolstoi Siamo alla formazione Della scuola di calcio A centrocampo Bolivar California Con Izzugna Tra parentesi California Mi aspetto Tempo Zero La canzone di Comacose Che parli della stazione California Che ha anche il nome Di lei Dei Comacose Quindi me l'aspetto Tempo Zero Poi Sant'Ambrogio De Amici Svetra Santa Sofia E Sforza Policlinico Mi fermo un attimo qua Per ricordarvi Come Sforza Policlinico Non è stato questo grande Sforzo ingegneristico Però perché Non si è riuscito A trovare la quadra Per fare il collegamento Sotterraneo Tra la M3 E la M4 Cioè quindi Se voi volete cambiare Tra la M3 e la M4 Dovete uscire Il consiglio è Missori C'è tutta una costruzione Esterna Non lo stanno facendo Quindi pedionalizzano La via Fanno dei camminamenti Così attraverso L'università Più o meno Nel senso che si è trovato Un pertugio Da cui passare E si arriva Sforza Policlinico Non c'è stato modo Non c'è stato verso Di riuscire a fare Il collegamento Di sotto Non lo so Nel senso Lì l'unica roba Da fare Forse era Spostare una fermata Della M3 E farla Bacciare Con l'incrocio Della M4 Non lo so Le fermate Della M3 Sono già molto vicine E non puoi farle Troppo vicine Perché adesso Non è una battuta Se le fai troppe vicine Rischi che quando si ferma Un treno Nella stazione davanti Il sedere del treno È ancora nella stazione dietro Quindi non si può Proprio farlo Comunque Alla fine Hanno trovato Questa soluzione Che è stata un po' Quella di fare Questo camminamento esterno C'è da dire Che anche Ieri ho preso M4 San Babila Col cambio Poi sulla rossa Anche lì Il cambio Comunque Esci fuori Delle tornelli Rientri Delle tornelli Della rossa Sei sempre sotterraneo Ma tanto adesso Con il nuovo biglietto Che puoi fare Tutti i viaggi Che vuoi Metropolitana Non è più un problema Effettivamente Lì l'unica scocciatura È il fatto di dover Uscire all'esterno Quindi andare fuori Con tutto quello Che comporta Il non rimanere Sottoterra Ma il dover Andare appunto Fuori Dopo Dopo Policlinico Passiamo a San Babila Poi quelle già aperte Che sono Tricolore Dateo Susa Argonne Stazione Forlanini Repetti E poi Linate Aeroporto Repetti Quello degli 823 No non erano Non gli hanno fatto Pensavo gli avessero dedicato Repetto Era Ma un repetto Pensavo gli avessero dedicato Una fermata La metropolitana Così Ormai Ha scritto anche il libro Quindi insomma E sull'onda Del successo Si sa mai Comunque Andiamo con un po' di musica Poi Torniamo subito dopo Due o tre consigli Per gli acquisti Proprio velocissimi E siamo di nuovo qua A raccontarvi un po' E con i giornali davanti Tutto quello che è successo Nella nostra città Ornella vanoni Di Paola Amarella Folla immensa Sei sei minuti di omelia Piena di commozione È una cosa normale È una cosa normale Real time Cioè una cosa che ormai Anzi anche le altre reti Vanno a inseguire Beh nel 2005 Forse era qualcosa di strano Quasi pionieristico Insomma Quindi uniti anche da questo inizio Insieme Che li ha consacrati A VIP della televisione A star televisive Insomma Ieri è stato il momento Dei funerali Del saluto Del cordoglio Della città Intorno a Paola Amarella Con un finale Poi un discorso Molto molto commovente E intenso Del marito appunto Di Paola Amarella Dall'altra parte Della città Verso Villa Santa Invece Cosa succedeva? Un altro funerale Rido perché Adesso poi leggeremo Tragica storia in realtà Perché parliamo Di una donna Di 58 anni Valeria Barillà Morta dopo una lunga malattia E fin qua Insomma Sarebbe anche da dire Che brutta storia Ci spiace Tutto il cordoglio Arrivi alla famiglia E ai parenti No Attenzione Perché Le ultime disposizioni Della signora Sono state quelle Proprio di Non invitare Vicini e parenti Al suo funerale Tanto che Nel necrologio E su Corriere della Siamiano C'è la foto Nel necrologio Affisso Sulle parenti Appunto Di Villa Santa C'è scritto Espressamente Che si ringrazia Chiunque voglia andare A partecipare All'eseque Dalle quali Sono Invitati Ad astenersi Vicini E parenti Da quanto abbiamo capito La sorella Che era l'unica Ammessa Che è stata quella Che ha Accudito La signora Barilà Fino alla fine Dei suoi giorni Ha Chiesto Ma da quanto sembrerebbe Non è che era stata Un'idea sua Era un'idea Della Defunta Di non avere Parenti Soprattutto i vicini Mi piace qua Dei vicini Vicini e parenti Non li voglio Al mio funerale Oh la cosa È stata A posto Perché effettivamente Poi alla fine Non c'era nessuno Se non la signora E basta Quindi Molto contenti così Nel senso che È stato Mi fa sorridere Come da una parte Tutta la città Al crudoglio e tutto E qui invece La richiesta Di rimanere da soli Non ci rompete le scatole Vogliamo starci da soli Molto ovviamente lì Poi ovviamente Adesso a Villa Santa Girano tutte le voci Possibili e immaginabili Corriere poi le racconta Insomma Ce ne sono chissà Quali diatribe familiari Dietro Mi faceva sorridere Questa doppia faccia Di come si possono affrontare Appunto Quei momenti Disastrosi E drammatici Che possono essere I funerali Chic con le freak 7.45 minuti Andiamo avanti A leggere i giornali Perché ieri Se eravate in zona isola Forse vi sarete accotti Che insomma C'è stata un po' Di confusione Perché cosa è successo Da Repubblica Milano Leggo la notizia Vi faccio un po' un sunto A un certo punto Da un camion Dell'AMSA Che stava facendo Una accolta differenziata Una accolta dei rifiuti Parte un principio Di incendio Per qualcosa Che c'era dentro Nel cassonetto Che viene messo Dentro nel cotro Quindi fermo Si ferma il mezzo Arrivano i pompieri Incominciano a intervenire Per spegnere le fiamme Anche un intervento Abbastanza veloce Sarebbe potuto stare Se non che Cosa succede Un pullman Che ovviamente Per spegnere le fiamme Hanno dovuto bloccare La viabilità E quindi hanno fatto Dirottare le auto Da altre parti Un pullman turistico Ha Anch'esso Preso altre strade Per finire però In Credo via di Castiglia Credo che sia Quella lì se non sbaglio E incastrarsi E quindi Bloccato Completamente La viabilità In isola Su due fronti Da una parte i pompieri Che spegnevano l'incendio Dall'altra parte il pullman Che non riuscì più Andare Né avanti né indietro Né avanti né indietro Non ricordate Aldo Giovanni e Giacomo Non riesco a andare Nessuno E giù Né avanti né indietro L'autobus Non sapeva più muoversi E quindi Completamente Bloccato E questa è stata la situazione Che ci ha messo Un po' di ora A quel punto A essere sbloccata Tant'è che A un certo punto Ci sono delle foto Dove è intervenuto anche Non so Naturalmente passavano di lì C'è quella camionetta Dell'esercito Che è dovuto intervenire Per gestire la situazione Mi immagino Le urla E l'ira Di quelli che abitavano Che passavano di lì Tra lì sono vie Che spesso volentieri Tipo via di Castiglia Si fa Spesso volentieri Un po' per tagliare Dici Taglio di lì Così faccio prima Così sbuco fuori In Melchiore Gioia Tac Faccio un attimo Ecco Faccio un attimo E sei rimasto bloccato Praticamente Tutta la giornata lì Vado e dice Repubblica scrive Inizio di settimana Pesante per il traffico In zona isola Per caso ancora da chiarire Il carico di un camion Dei rifiuti Ha preso fuoco Intorno alle 7.30 del mattino Nel pieno di piazzare d'agosta E i pompieri Sono arrivati quindi Per spegnere l'incendio E evitare altri danni L'intervento ha bloccato la piazza E le auto sono trovate quindi A dover cercare Percorsi alternativi Tra i mezzi in questione Un pullman gran turismo L'autista ha pensato Di aggirare l'ostacolo Imboccando via Volturno E si quindi via Castiglia quella Ma all'angolo Con via Confalonieri Scusate con via Confalonieri Si è trovato bloccato E quindi Basta Pullman bloccato E quindi Alla fine Non è riuscito più a muoversi Ci hanno messo ore Per sbloccarlo E il traffico ovviamente In tilt In tutta La zona In tutta isola Con ripercussioni Quindi poi Sulla vicina Stazione Garibaldi Sicuramente Sulla circonvalazione Su Melchior e Gioia Palazzo della Regione Insomma lì È abbastanza strategico Sarà sempre isola Ma è molto strategico Quindi Vabbè Questo è quello Che è successo I mattini in isola Mi raccomando Non so cosa fare State lontani Degli autobus State lontani Se vedete Se vedete che vanno In qualche via stretta Fategli una suonata Per dirgli Va che non ci passi Non do la colpa Neanche all'autista Povero Cristo Lui era lì Che non sapeva dove andare Ha cercato In qualche maniera Di uscire Da quel cul de sac Che era diventato Piazzare l'agosta Va bene Allora Un po' di musica ancora Quella Qui un salto Negli anni 80 No giusto Un salto Negli anni 80 1986 1986 Le contrattazioni Sempre tra l'ufficio Programmazione e Beatrice Portano a grandi perle E vi sto parlando Di un Bon Jovi D'annata Bon Jovi 1986 E non è quella Lì che pensate voi Perché se non me ne pensate Un'altra Sono solo successi Quelli di Bon Jovi Quindi Bon Jovi You give love Bad name Invece qui I nomi sono sempre buoni Sono quelli Che vi diamo Tutte le mattine Così anche per Ad esempio Fa poco Partirà il giornale radio Poi c'è il traffico Insomma Poi dopo Abbiamo un brogio curto Insomma Tanti tanti Belle cose Che vi possiamo raccontare Oltre a legge Appunto le notizie Come ad esempio L'endorsement Adesso Anzi la spinta In un certo senso Del presidente Della Repubblica Mattarella Verso Milano Cortina Che dice Olimpia di 2026 La spinta di Mattarella Sto leggendo La Repubblica Milano Adesso tocca Milano Cortina In fiera Avanti con i lavori Per trasformare Due padiglioni Nello stadio del pattinaggio Finiremo Dice Pazzali Dice Finiremo Entro il primo trimestre 2025 Non mi vergogno A dire Che questi titoli qua Però Allora Lo spazio c'era Perché devi scrivere Pazzali Pazzali Due punti Chi è Pazzali Sicuramente sarà qualcuno Che ha a che fare con l'Olimpiadi Ma me lo sono perso Ok Non mi vergogno a dirlo Mi sono perso Chi è Pazzali Ma scrivono Pazzali Dirigente Direttore Presidente No Pazzali Due punti E quindi Mi devo andare a leggere Tutto l'articolo Di cui Poco mi Non lo trovo Subito Quindi devo leggermelo Tutto per bene Ma io voglio sapere Chi è Pazzali Ecco Enrico Pazzali Presidente della Fondazione Fiera Milano Ad esempio Ok Mi ero perso Non so che si chiamasse così Il Presidente della Fondazione Fiera Milano Ma scrivilo sopra Vai comunque Pronti Dice Finiremo I lavori Entro il primo trimestre 2025 Quindi Lo speriamo Perché la consegna Delle aree Per lo speed skating Verso Fondazione Milano Cortina È prevista Per il primo agosto 2025 Ma contiamo Di finire il lavoro Entro il primo trimestre 2025 Bene Speriamo E noi siamo qua Ad aspettarlo Ma manca poco Siamo proprio dietro l'angolo Veramente Domani iniziano Queste in piedi Sembra Sembra Ma iniziano domani Un po' di musica Piccola pausa E torniamo qua Dopo il giornale radio Dopo il luce verde Siamo ancora qua Con tanti ospiti Fino alle 9 Questo è Good Morning Milano Crystal Radio E questo è Onicure Con lullaby Alle 8 e 10 minuti Questo è il Crystal History Come sempre Ogni punto ora Vi ricordate C'è il Crystal History Una canzone dal passato Che insomma Ci fa ricordare un po' Quello che è stato Sono le 8 e 10 Quindi seconda parte Di trasmissione E come sempre Abbiamo un ospite E un gradito ritorno Francesca Cucchiara Buongiorno Francesca Buongiorno Buongiorno Direttamente dal Consiglio Comunale Eccola qui Ricordiamo Consigliere Comunale In quota Europa Verde Perdo ogni tanto Sti partiti Cambiano i nomi E mi perdo Europa Verde E' A WS E' A WS Infatti Comunque Europa Verde Consigliere Comunale Tra i palazzi Prima Forion dicevamo Nello studio Che hai visto crescere Perché effettivamente Tu sei stata qui Anni fa Sì sì Infatti è bellissimo Vederlo crescere E' bellissimo Come l'avete Vedere anche nuove persone E' un progetto bellissimo Quello che ho portato avanti Quindi veramente complimenti Ma complimenti a te Che invece Fai uscire sempre Delle situazioni Cioè accendi Diciamo Il faro della politica Su delle situazioni Che magari a volte Passano un po' in sordina Quest'estate E' uscito un po' Diciamo il bubbone E tu l'hai Schiacciato Un po' come quei video Che ci sono su internet La gente che continua Andare a vedere Quella roba lì In poche parole E ne è uscita tanta roba Nel senso che Qual era il bubbone Era che si è scoperto O meglio Non ci volevamo molto A scoprirlo forse Però è stato palese Il fatto che C'è un business Dietro agli studentati Milanesi Che non fa bene Soprattutto agli studenti Cosa avete trovato E come è uscito Questa situazione Allora E' uscita così E' uscita perché Eravamo andati A un sopralluogo Al villaggio olimpico Per chi non sa chi è Diciamo Quella struttura Che sta venendo realizzata A scallo di Porta Romana E che ospiterà Gli atleti olimpici E che poi Verrà trasformata In studentato Ecco Quando siamo andati lì Ci hanno detto Che per 12 metri quadri Distanza Il prezzo Era più di 900 euro 12 metri quadri Esatto E' legale Vivere in 12 metri quadri Tra l'altro Tra l'altro Mi chiedo Però Quindi questa cosa Ovviamente ci è sembrata Molto strana Quindi abbiamo richiesto La convenzione Il villaggio olimpico L'abbiamo analizzata E poi abbiamo detto Scusate ma In questa cosa Accade soltanto Il villaggio olimpico Oppure no Cioè è veramente Un'eccezione Oppure no Quindi abbiamo Preso i documenti Abbiamo fatto C'è stagliatti A tutti Tutti gli studenti Convenzionati Tutti i posti letto Convenzionati con il comune Che vuol dire Convenzionati Convenzionato Vuol dire Che sostanzialmente Sono delle strutture Private Per le quali Però il comune Concede Ai costruttori Determinate agevolazioni Perché sono servizi Privati Ma di interesse pubblico Il che vuol dire Questo è importante Che hanno Delle agevolazioni Fiscali Non pagano Ioni di costruzione Di mezzate Ioni di urbanizzazione Il raddoppio Delle volumeterie Insomma Tutta una serie Di sgravi importanti Perché Io faccio un palazzo Dico Però guardate Metallo Faccio destinazione A questa cosa qui Facciamo la convenzione Magari Allora puoi fare Un piano in più Detta male Di fatto sì Perché è come se io Un pubblico Vengo da te E ti dico Siccome io non posso Fare uno studentato pubblico Lo fai tu Io ti do Delle agevolazioni E tu in cambio Mi dai dei posti letto Che sono a canone Calmierato Bene Dovrebbero essere Almeno dovrebbe essere Quello che però è Nella realtà È che anzi Sono perfino più alti Molto più alti Di quelli che troviamo Sul mercato O degli alloggi Delle abitazioni private Sulle convenzioni Non c'è scritto Che devono essere Calmierati Non c'è scritto Ecco Vediamo il problema Non c'è scritto Quanto devono essere Quanti devono essere Calmierati Perché a una certa Superficie convenzionata Non corrispondono Tutti i posti letto Calmierati Quando Sentivo un po' Di giorni fa Il sindaco Che era stato intervistato Per esempio Su fanpage E gli chiedevano Villaggio olimpico Però Sono dei prezzi altissimi E lui diceva Ma ci sono anche I posti letto Convenzionati In realtà È tutto convenzionato Quella struttura là Tutti i posti letti Sono convenzionati Non tutti Sono calmierati Quindi come dire C'è anche Questo Questo equilibrio E fra l'altro Quando parliamo Di posti letto Calmierati Sì ma Di quanto E noi quindi Siamo andati un po' A spulciarci Le varie norme In questo meccanismo Abbastanza complicato Di scatole cinesi Di mille rimandi Per poi capire cosa Che non c'è effettivamente Un requisito normativo Che ci permetta Di contenere i prezzi Anzi ci sono Delle norme Cioè calmierato Vuol dire tutto Vuol dire niente Un po' come i prossimi congiunti Quella roba lì Si capiva bene cosa fosse Idem No? Qua Il riferimento Per i canoni È una normativa Una norma Una libera Di giunta Regionale Che però Non è una norma Che va effettivamente A regolare I posti letto Delle convenzioni Era un bando Del 2005 Scaduto Del 2006 Che ti diceva Tieni conto Di questi Di questi canoni Quando vuoi andare A finanziare In questo bando In cui si finanzia Si dà un finanziamento Per gli studentati Quindi praticamente Noi abbiamo fatto Riferimento Sempre a questa norma Che di fatto Era Era desueto Poi di fatto Questi canoni Erano indicativi Ok Poi insomma C'è anche una Insomma Anche la determina Del comune Che anche lì Dice di agganciarci Soltanto il 10% Insomma Alla fine Vediamo Che nei fatti Non c'è niente Che costringa Gli operatori A tenere i prezzi Più bassi E allora Dopo la prossima canzone Invece ci spieghi Cosa si potrebbe fare Ma soprattutto Queste convenzioni Che quindi sono Praticamente fallimentari Dal posto punto di vista Dal punto di vista Soprattutto degli studenti Che devono entrare In queste strutture Strutture che Ce ne saranno sempre di più In città Quindi insomma È giusto Tenere gli occhi Ben aperti Su questa problematica Maroon 5 Sempre qui In diretta Su Good Morning Milano Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus L'applicazione per iOS Android E poi Comunque Vi ricordo sempre Che se vi perdete qualcosa C'è sempre il nostro sito Good Morning Punto Milano Punto IT E trovate tutto lì Anche Fa poche ore Anzi Pochissimo Veramente Appena finisce la trasmissione In un attimo Non so come La regia Ginevra e Bea Fanno questo magia E tac Ritrovate tutto subito lì Anche dicevo appunto L'intervista di questa mattina Con Francesca Cucchiara Che è qui con me in studio Buongiorno ancora Francesca Allora abbiamo letto un po' Qual è stato Il quadro che avete trovato Nel suo punto Sul discorso del business Degli studentati Questo comporta Dei grossi problemi In una città Che comunque Non ha problemi Della casa O dell'affitto O del posto letto Solo sugli studenti Ma praticamente Tu curso tutti no? No no È un problema enorme Io soltanto ieri Ero uno sfratto Sfratto di una famiglia Con tre bambini E poi Insomma Questo è stato Stato rimandato a dicembre Ma comunque Il problema ancora rimane È veramente un Non so neanche più Se chiamarla emergenza Perché ormai è diventato Un problema strutturale In questa città È perché Non è Il problema Non è tanto Il padrone di casa Brutto e cattivo Che a un certo punto Si sveglia Perché quella roba lì Magari si può gestire In un certo modo Non so come dire Qui invece parliamo di Società Che comprano Da altre società Grossi Complessi Qui stiamo parlando Di dove? All'incirca Sono le palazzine Ex Empam Ex Empam Empam Venduto a fondi Di fondi Di fondi È gestito da investire SGR E quindi stiamo parlando Appunto di grandi fondi E poi Ci rimette la povera gente Che hanno Anche forse giustamente Mi viene da dire Cioè il grande fondo Cosa fa? Nel suo DNA C'ha quello di guadagnare Quindi va bene Non voglio dire niente Ma ci guadagna Solo la pelle della gente Ma il problema è questo E quindi come si può fare In questo caso Cosa vi siete Cosa avete proposto Quali sono le proposte Che state facendo Come Europa Verde Come Come facete Cucchiara Anche volendo Allora Innanzitutto Se Su questo fronte La risposta Una La risposta La prima risposta Deve essere quella Di investire Di più Nell'edilizia residenziale Pubblica Cioè Non è normale Il fatto che Noi oggi Abbiamo più di 2000 appartamenti Che rimangono sfitti Perché Dicono Non ci sono i soldi Per ristrutturarli Eccetera eccetera Quindi da una parte Ce ne sono le persone Che perdono la casa Dall'altra Ci sono degli alloggi Che tuttora rimangono sfitti Sia del comune Sia di regione Lombardia Per cui Il tema Anzitutto È quello Cioè Servono Servono Più investimenti Servono più fondi Per l'edilizia residenziale Pubblica Quella è la prima cosa Poi È importante Intervenire Sulle Norbe urbanistiche Per far sì Che Per ogni nuovo intervento Ci sia Una quota Di abitazioni Che sia Realmente sociale Cioè Negli accordi Con il privato Attraverso Il piano di governo Del territorio Che La cui discussione Di fatto È stata rimandata In consiglio Possiamo Intervenire Su questo fronte Però L'aspetto primo Rimane sempre quello Cioè Erp Fare Edilizia residenziale pubblica Sulla questione Delle convenzioni Perché appunto Il discorso dell'erpe Però costa tanto Il comune Non la può fare Regione Che meno dice Non la posso fare Neanch'io Chi la fa Facciamo le convenzioni Ci sono tanti buoni privati Che vogliono costruire Oh grazie Signor privato Che costruisce Facciamo la convenzione Esatto E poi Ricadiamo sempre In quella contraddizione Ma per tutto Che sia Per la casa Che sia Per lo sport Perché pure Uguale Non abbiamo i soldi Per ristrutturare la piscina Beh appoggiiamoci al privato E poi facciamo Facciamo un accordo Per il welfare Tutto Ma io vorrei capire una cosa Tu sei nelle stanze Dei bottoni Che non ci siano soldi Sembrerebbe Che sia abbastanza vero Dopodiché però Insomma Vendiamo Affittiamo La galleria Vittorio La galleria Prada Chi per adesso Ha milioni Milioni di euro All'anno Dieci milioni Domenica Il sindaco Sala Ha detto Dieci milioni di turisti All'anno Che vengono a Milano E non credo Che stiano A mangiarsi Il tramezzino Come faccio io Spendono in questa città Com'è che poi I soldi Non ci sono Allora Il fatto su Isla Alla fine Torno sempre Su quel punto là Perché Milano comunque È vero Che ha una situazione Peculiare Perché noi abbiamo Praticamente Quasi Un terzo Della nostra Spesa corrente Che poi è quella Che garantisce La continuità Dei servizi pubblici Che è impegnato Sul trasporto pubblico Non succede In nessun'altra città Noi abbiamo Cinque linee di metro Per cui Insomma si capisce Che c'è una spesa Molto più grande Che sta In buona parte Sulle spalle Di Milano stessa Quindi Milano Fa fatica A mantenere E questo Ha cascato Delle ripercussioni Su tutto il resto Per cui Io penso Nel momento in cui Il problema Lo abbiamo su tutto Lo abbiamo sullo sport Lo abbiamo sulla casa Lo abbiamo sui salari Eccetera eccetera E interroghiamoci Su come aumentare Le risorse I turisti Sono una risorsa Sì Per chi? Per pochi Non sono veramente Una risorsa Per la comunità In questo momento Per cui secondo me Sarebbe opportuno Che ci si interrogasse Su come chiedere Un po' di più A chi vive Questa città Soltanto così Per turismo Di passaggio Perché In realtà Stiamo vivendo In questo momento Un grande Un grande malessere sociale Lo vediamo appunto Tu giri tanto Tu giri tanto La città E appunto Te ne accorgi Praticamente Giornalmente Di questo malessere Che sta Sempre più montando E in tante zone Della città Però Adesso mi viene da dire Non in quelle In cui uno se l'aspetterebbe Anche a volte Già lì è brutto Ma in tante Ma sì Ma come dicevo ieri In consiglio Cioè È assurdo Cioè pensiamo Noi adesso abbiamo La settimana della moda Quindi tutto questo Città delle week Questa Sì è la città delle week No Dello sparse Del lusso Della ricchezza E poi dall'altra parte Abbiamo la gente Che finisce in strada Che viene in strada E non sappiamo Dove metterla Perché non ci sono Abbastanza posti Nei servizi Abitativi transitori Per cui Abbiamo proprio Un'emergenza E facciamo veramente Fatica A intervenire Per cui Sì io penso Che comunque Bisognerebbe Anzitutto interrogarci Su come Reperire maggiori risorse Ebbene Questa può essere Una delle ricette Appunto Quella riproposta Ad esempio Da facciare cucchiare Ma chissà Quali teatro ce ne sono 3317853555 Diteci anche voi Come la state vivendo Questa città Io ho solo Un brutto presentimento Che si è un po' tornata Da Milano da bere Che almeno però Ci faceva divertire Ci faceva bere Qui in realtà Non beve nessuno E si divertono Veramente Veramente In pochi Da Straits E poi torniamo Avril Lavigne Con Girlfriend Alle 8 e 33 minuti Martedì 24 settembre Un po' Avril Lavigne Francesca Cucchiara Io Un pochino Sono girato Ho visto Avril Lavigne Qui di fianco a me No Non può essere Un po' più rossa Allora Francesca Stiamo parlando appunto Di convenzioni Studentati Del problema Della casa Che a Milano Affligge veramente Troppe E sempre più persone Ma sulle convenzioni Tu infatti ci stai facendo Proprio una battaglia Cioè sul dire Interessante come soluzione Ma bisogna trovare Il modo di farle funzionare Perché Mi dicevi poco fa Ad esempio Ci sono tante cose Che poi rimangono Ai lati Ai bordi Fuori da queste convenzioni E poi il controllo Come viene questo controllo Come può avvenire Questo controllo Anzitutto il problema È che questi Gli accordi Dei convenzionamenti Non passano Dall'aula consigliare Quindi diciamo che Sono un po' lontani Dall'occhio della politica E poi Insomma Quindi nel caso Del villaggio olimpico Lì è stato diverso Perché monitoravamo Diciamo la struttura In vista delle olimpiadi Quindi diciamo che È venuto A galla più facilmente Però Di fatto Sì Non Non passano Molta l'attenzione Su me Della parte politica E poi In questo caso Nello specifico Su me C'era una struttura Relativa alle norme E poi comunque C'è stato poco controllo Che Che comunque Fossero rispettati Quanto meno Diciamo I parametri I criteri Perché siamo veramente In una Una profonda contraddizione Secondo me Questa cosa Del passaggio Verso la parte politica Vedo che è un problema Però che nasce Da lontano E che spesso Si propone su tanti temi Però Cioè Vuoi in consiglio Ogni tanto Passando Passante ferroviarie Mi passano dietro Sì Ha nominato lo stadio Ha nominato lo stadio Attenzione Attenzione Me l'hai chiamata Proprio Vai prego Sì Ma pure sullo stadio Nel senso Ho sentito dire Che I passaggi in consiglio Sono stati fatti Perché adesso Il sindaco Ha parlato con le squadre Quindi non c'è Non ci sarebbe più bisogno Di passare dall'aula Perché le cose Sono state già decise Ma ragazzi Ma quando Sono state già decise Adesso ci ritroviamo Con un progetto Totalmente diverso Che è quello di uno stadio Più piccolo Di un San Siro ridotto Di un piccolo San Siro Accanto a un altro stadio Quindi due stadio In la stessa area Questa cosa Quando è stata discussa Se noi andiamo a vedere Gli atti Del dibattito pubblico Non c'era questa roba qua C'era un altro stadio Al posto di San Siro Che è un'idea Che io non condivido Però è comunque Un altro progetto Per cui insomma Sì no Ed è un tema Che si ripropone E un tema Se si ripropone Volevo ricordarti però In particolare Fate parte della maggioranza Tu Francesca Non so se te lo ricordi Ogni tanto mi sembra Che ve lo dimenticate No 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 Allora no Noi facciamo parte Della maggioranza E per me Far parte della maggioranza Significa comunque Assumersi la responsabilità Per cui se si critica Una cosa Si propone una soluzione Che è quello che abbiamo fatto Nelle convenzioni Abbiamo detto Signori secondo me Secondo noi abbiamo sbagliato Fino a qua Rivediamo questa cosa E quindi infatti La nostra proposta È stata quella di Abbiamo detto Di andare in consiglio Con una delibera Per andare a sistemare Alcuni aspetti Quindi le quote Per i DSU Il fatto che ci siano Per il diritto allo studio Scusate Non ho specificato E delle quote Definite per il diritto Allo studio Che ci siano Dei parametri Definiti Per i canoni Perché lo strumento Non è tutto da rigettare Però servono Delle regole Più precise Delle regole Più chiare Per cui Quella è la cosa Che fa la maggioranza Questa cosa Non va bene Perfetto Ti diciamo Anche come Crediamo che debba Essere cambiata Se pensate che stiamo parlando Di qualcosa Che riguarda poche persone Ma Milano è una città Che fa tanto alto La città dei servizi La città delle imprese La città dei grandi Multinazionali Beh no Perché Milano Potrebbe essere Una delle città universitarie Più importanti D'Italia I numeri lo dicono Ma ci lo racconti meglio Dopo la prossima canzone Perché vorrei proprio Che tu Anche per vicinanza Anche di età Con chi L'università sta facendo Magari conosci meglio di me Il mondo Punto Universitario E quindi Un po' di musica E poi torniamo qui Con Francesca Cucchiara A parlare di Milano Università Il mondo università E questa Milano Che potrebbe Tranquillamente Essere a tutti gli effetti Una vera e propria Città universitaria Come tante altre in Italia Ma che invece Fatica a essere Una città Per universitari E non dico altro Lascio a voi Tutto quello che volete Perché insomma C'è poco da dire Francesca Allora stavamo parlando Del mondo Dell'università Mondo che a Milano È importante Ma forse Troppo dimenticato Secondo me Cioè Sono tanti gli studenti Che arrivano A Milano Parliamo 200.000 passa 129.000 fuorisede Solo fuorisede Sì esatto Il tema però È quali studenti Stanno arrivando qui Nel senso che Se vediamo appunto Le residenze universitarie Sono di fatto Delle residenze Che pochi studenti Di diceto medio Possono permettersi Per cui di fatto Buona parte Di studenti Sono studenti Appunto Stranieri Particolarmente Abbienti Dico io E quindi In un senso Chi invece Viene qua E viene qua Per studiare Dalla periferia Logicamente Fa molto più Carina Senza pensare al tema Che il fuorisede Non necessariamente Nel fuorisede Abbiamo Nicola Che arriva da Bari E fa la Università Milano Ma non è necessariamente Quello Perché può essere Quello che arriva Da Brescia A volte Magari Esatto Tante volte Sono appunto I ragazzi Le ragazze Che arrivano Dai comuni limitrofi E già Il trasporto pubblico Ferroviario Insomma Nella Della regione Mi permetto Non è particolarmente Ottimale Quindi si fa anche Fatica Oggi A essere Pendolare In più Non ci sono Non ci sono sufficienti Residenze universitarie Con la conseguenza Che poi I ragazzi Si devono affacciare Sul mercato Con i prezzi Che ci stanno E quello è il problema Per cui Questa struttura Che abbiamo visto Delle convenzioni Poi di fatto Ha ripercussioni Così Ha ripercussioni Sui studenti E le studentesse Che invece Dovrebbero avere Diritto A quelle A quelle stanze A quei posti letto A chi dice Che le convenzioni Sono le mani del mondo Però in realtà Ci sono anche Delle convenzioni Che poi funzionano Giusto Ci sono poi Magari non in questo campo Ma sì Allora Ci sono delle cose Che logicamente Possono funzionare Nel senso La convenzione Di per sé È un termine Che tiene dentro Di tutto Cioè convenzione Appunto Dallo sport A welfare A tutto È come sinergia Si usa sinergia Facciamo sinergia Esatto Quella parola Che va bene per tu Se lo dici tu Facciamola Però ecco Qui in questa cosa qua Noi abbiamo visto Degli esempi Delle strutture Che tengono effettivamente Dei prezzi più contenuti Che sono convenzionate Che è appunto Il Pompeo Leoni È una struttura Che se andiamo a vedere Insomma I grafici I dati che abbiamo Estrapolato Poi effettivamente Tiene i prezzi Più bassi Di quelli di mercato Attuale Per cui non è Un strumento Ambrogino d'oro Un attimo Per cui è una struttura Insomma Quella effettivamente È un caso Che richiede più studio Perché effettivamente Può funzionare Però Il tema È che ci sono delle cose Che proprio Non funzionano Quindi Appunto Quello che chiediamo È che si intervenga Anzitutto Per definire Dei paletti chiari In modo che poi Insomma Non si esca Come è stato fatto Va bene Francesca Ti porto fuori tema In realtà Perché insomma Non posso Quando qui Consiglieri comunali Quando qui Quelli che fanno La politica E che a me piace Quelli che fanno La politica Perché insomma È una cosa nobile E bella Fare politica E non necessariamente Invece solo Pensare ai ladri A si rubano No Quella è un'altra roba Quelli che fanno male La politica Quelli che fanno bene Spesso ventieri Hanno anche delle visioni Un po' per questa città Non che Non bisoli date Da sostanza Chissà cosa Avete visioni Per il futuro Quale visione hai Per il futuro Di questa città Ma io penso Che debba essere Ci debbano essere Anzitutto Due cose In questa città Anzitutto Una città Che non sia Respingente Per le persone Nel senso La questione Abitativa La questione sociale È una questione Fondamentale E dobbiamo agire Con tutti i mezzi possibili Tutti Perché Sta diventando Veramente una città Esclusiva Milano Veramente inaccessibile Punto primo Punto secondo Sulla questione climatica Sulla questione climatica Tra l'altro Adesso Fra un po' Con l'inverno Ritornerà il problema Ambiente Il problema dell'aria E quello che è successo Ad esempio L'anno scorso In cui l'aria Era veramente Irrespirabile Mi ricordo Quando ero venuta qui La volta scorsa L'aria era assolutamente Irrespirabile Sono delle cose Che non devono succedere Non dipende soltanto Da Milano È vero Non dipende soltanto Da Milano Cosa può fare Un comune Cosa può fare Una città Come Milano Lì Secondo me Dobbiamo rivedere Completamente Le politiche Sulla mobilità Adesso abbiamo Dei limiti C'è area C Area B Eccetera Hanno funzionato Un po' Sì Un po' Sì Effettivamente Sì Funzionano Adesso Funziona La sufficienza No No Per cui Quello strumento Nel momento in cui Non ti garantisce Più riduzione Delle auto Più riduzione D'inquinamento Va ripensato Va ripensato Ritorno a dire La mobilità Non riguarda Soltanto Milano Perché la gran parte Delle auto Vengono fuori di Milano E per cui è necessario Il contributo Della regione Da sola Milano Su questo Non credo ce la faccio Non apro il capitolo Città metropolitana Perché lì vabbè Un capitolo vuoto Però in realtà Poveretti Nel senso che A me spiace Che questa istituzione Sia completamente sbotata Del suo significato Il vero tema Il vero tema Infatti È Rivedere il funzionamento Della città metropolitana Noi dobbiamo fare il salto Per cambiare realmente le cose Noi dobbiamo fare il salto E dare più importanza E marginizzazione Alla città metropolitana Che così diventa Soltanto un coordinamento Fra i vari comuni E così Non funziona Bene Francesca Allora io ti ringrazio tantissimo Per il tuo intervento Grazie Seguite Seguite i lavori Di Francesca Se vuoi dare anche I tuoi contatti Social Non so se uno per seguire Così cosa sta facendo Perché questa cosa Sì ormai Ma io di fatto Butto sempre tutto Su Instagram È il metodo più semplice Forse quello più efficace Però questo Francesca Gucchiara Cercate Francesca Gucchiara Su Facebook La trovate Su Instagram La trovate Perfetto Così potete seguire I lavori E anche capire Cosa vuol dire Nel mio caso Così come dicevo prima Fare politica Fare politica In un'amministrazione locale Fare politica Per il territorio Grazie mille Francesca Grazie a voi Grazie a voi Buon lavoro in consiglio Saluteci i tuoi colleghi Di consiglio Saluteci la maggioranza Di cui fai parte Voglio ricordarti Perché ogni tanto Sembra che ve lo dimenticate Quindi vorrei ricordarvelo sempre E andiamo con un po' di musica E poi torniamo qui Per i saluti finali Alle 8 e 47 minuti 331-78-53-555 Il nostro numero di Whatsapp Crystal Radio FM Da Plus IOS Goodmorning Punto Milano Punto IT Il nostro sito Coma cose Con Chiamami Da Corriere della Sera Milano E' arrivata una notizia Che andava un approfondimento Su qualcosa che avevamo già detto Mesi e mesi fa Su Instagram Stanno girando tantissimo I video di questi ragazzi Che si arrampicano Entrano in proprietà private Spesso e volentieri In cantieri Che sono in atto In zone magari importanti Da città Per scalare questi palazzi E farsi foto e video Dall'alto Di queste costruzioni Con dei panorami Stupendi In mozzafiato C'è dei video bellissimi Ma che comunque comportano con sé Tutta la responsabilità Del fare un gesto Illegale Del salire su questi palazzi Pericolosi anche Perché insomma Il rischio Di volare di sotto È un attimo Noi siamo In contatto con Ifmic Che è uno Che fa queste cose su Instagram Che abbiamo cercato di portare In trasmissione Ma non riusciamo a convincerlo A venire Prima o poi Ci cercheremo di farlo Oggi Su Corriere della Sera C'è un po' Un approfondimento O meglio Del Insomma Vi leggo il titolo Dai verbali bruciati Alle arrampicate estreme Sui palazzi Ecco come i giovani Sfidano le autorità Gesti per cercare Popolarità sui social Ebbene sì L'analisi Che arriva dal coordinamento Dei comitati milanesi La nostra amica Fabiola Minoletti Dice L'essere denunciati O indagati Sembra non rappresentare Più un deterrente Infatti ci sono foto E anche video Di loro Durante I fermi Della polfer Spesso volentieri Perché vengono fatte Magari nelle stazioni O della polizia Che li intercetta Delle denunce Che gli arrivano Perché poi facendo sui social Questi video In un attimo Sanno chi sei Ti ritrovano Quindi ti arriva La denuncia a casa Il video Del foglio Della denuncia Preso Incendiato Come gesto di sfida Verso le autorità Tutti questi gesti Sono fatti Soprattutto In aree Abbastanza pericolose Cantieri E situazioni del genere E Tutto quanto È Abbastanza ormai Delineato In un copione Abbastanza semplice Che è quello del Lancio la sfida Sul social Oppure chiedo Cosa vi piacerebbe vedere Un dei termini Sono spot Vengono chiamati spot Questi luoghi In cui Si fanno Questi tipi di Selfie E video Estremi Quindi lancio la sfida O lancio la richiesta Il mio pubblico Si prende bene A dirmi Prova a fare questo Prova a fare quell'altro Scala dal Duomo E dai un bacio Alla Madonnina E infatti poi È successo L'anno scorso Che appunto Qualcuno È salito fin su A dare A farsi un selfie Della Madonna Un vecchio slogan Che usavamo anche noi A Milano Il News Comunque con la Madonnina Si è fatto Il selfie Con tanto di maglietta Brandizzata Che poi ovviamente È diventato virale Ma tante altre volte Torre Velasca È uno di quelli Più utilizzati Ma la galleria Vittorio Emanuele Tanto che sono state messe Le telecamere Sopra Alla galleria Per far sì che Si intercettino Questi Che camminano Sopra E spesso E anche magari Che rischiano di rompere I vetri O di fare dei danni Anche a strutture Artisticamente importanti Ma di base C'è questo C'è la sfida C'è la voglia Di far vedere Di essere capaci Di superare il limite E di sfidare l'autorità E come dice appunto Il comitato Coordinamento Di coordinamento Di comitati di quartiere Appunto Famiglia Minoletti Dice che Basta Tutte queste imprese documentate Fatte dai loro autori E dai loro amici Non Che portano poi Quasi sempre A delle denunce Non hanno Quella denuncia Non è più un deterrente Per non farle Anzi Sembra che più like arrivano Più in realtà Quella sia la vera benzina Nel fare gesti del genere Quindi Non conta più Assolutamente Anche la denuncia Ma anzi Contano molto di più I like che mi possono arrivare E adesso siamo arrivati Invece al momento Di dire la parola fatidica Che alle 8.54 È Sigla 8.55 Alle 7 Tutto quello che volete Lo trovate sul nostro sito Goodmorning.milano.it Le voci che avete sentito Questa mattina Sono state quelle Di Francesca Cucchiara Fabio Ranfi Qui al microfono Come sempre In regia Gineva Alla redazione Alla produzione Beatrice Grazie mille Grazie mille ancora A tutti quanti E a domani Sempre qui In diretta Good morning Milano Ciao 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 Ciao